Siamo qui al Palazzo degli Uffici ad Ariano Irpino per presentare la web fiction Chiamami dove ovviamente abbiamo come ospiti abbiamo Michele Pinto, il regista, abbiamo Felice Caiati, direttore di produzione e Massimiliano Tedeschi, attore. Allora ragazzi parlateci un po' di voi. Web fiction Chiamami è una web serie, in particolare è stata una delle primissime web serie made in Puglia, è un'idea nata all'incirca 5 anni fa che poi ha trovato diciamo una vera e propria genesi nel momento in cui ha aderito a un bando, un bando regionale che è quello di Bollenti Spiriti indetto appunto dalla regione Puglia e dal ministero delle politiche giovanili. Per cui la nostra idea è stata premiata con un finanziamento di 25 mila euro con cui siamo riusciti a realizzare queste dieci puntate che hanno debuttato da subito su YouTube e poi hanno così affascinato anche il mondo televisivo da essere andata in onda su una rete televisiva locale pugliese che è Antena Sud. Dopo aver colpito favorevolmente il noto comico Antonio Stronaiolo che si è innamorato della web serie. Nel particolare Web fiction Chiamami è un mix agrodolce perché vede tra i suoi ingredienti la comicità e anche la denuncia sociale. In quanto in Web fiction Chiamami parliamo di una realtà quale quella del Sud, molto spesso nota a tutti che è una realtà di mancanza quasi totale di opportunità lavorative e in cui molto spesso i giovani sono quasi costretti a inventarsi un mestiere. Nel nostro caso i protagonisti per motivi nobili oseremo dire ovvero per salvare un loro compagno affetto da necrosi epatica a causa dell'abuso di alcol e droghe e in cui c'è la denuncia sociale anche per salvare questo amico che necessita appunto di ingenti somme per finanziare un'operazione chirurgica all'estera si vedono costretti ad essere arruolati da una fantomatica organizzazione criminale che appunto li allena come escort per portare le turiste straniere in visita alla Puglia. È strana la nostra vicenda, sembrerebbe quasi non meritare quasi un sovvenzionamento, in realtà è una maniera originale per fare della nostra regione una bella vetrina e anche una vetrina alquanto originale in quanto noi con la scusa di portare le turiste straniere in visita alla nostra regione abbiamo fatto appunto valorizzazione territoriale, abbiamo parlato di turismo, di in un certo modo anche di gastronomia e al tempo stesso abbiamo reso sempre più internazionale la nostra terra perché Web Fiction Chiamami non dobbiamo dimenticarlo è stata una delle prime web serie sottotitolata in inglese, tra l'altro un inglese molto slang oserei dire quasi americano per cui veramente siamo visti in tutto il mondo. Siamo al momento una delle web serie più cliccate, più visualizzate anche su noti portali di web serie come WebSeries TV. È stato difficile assemblare un cast valido oppure avete trovato subito insomma chi poter interpellare per rendere al meglio insomma appunto questo spaccato della vostra regione? Diciamo che la nostra è stata una sfida alquanto allettante in quanto da progetto regionale non dovevamo coinvolgere necessariamente solo attori professionisti ma abbiamo anche coinvolto attori alle prime armi o quasi. L'attore Massimiliano Tedeschi ne è un esempio qui oggi. In particolare proprio perché la regione chiedeva un coinvolgimento di varie fasce sociali e quindi anche di persone che non facessero essenzialmente questo di mestiere siamo riusciti a creare un casto molto eterogeneo in cui attori professionisti e non sono riusciti a contaminarsi tra loro e quindi le rispettive esperienze in un certo modo hanno formato anche gli altri. È stata veramente un'avventura bellissima perché tra gli attori erano annoverati anche antiquari o operai che si sono cimentati così attraverso tra l'altro dei casting molto nazional popolari che abbiamo fatto in giro per le piazze pugliesi in accordo con feste o sagre o associazioni o comunque enti e istituzioni della nostra regione per cui ogni volta in una sorta di tournée riuscivamo ad organizzare dei casting per strada nelle piazze nei locali a cui la gente partecipava mettendosi in gioco e in più il proprio provino potevano vedere caricato sulla nostra pagina del sito e potevano anche far votare a casa da amici e parenti. Naturalmente il voto da casa non avrebbe influito sulla scelta degli attori però in un certo modo come diceva anche Andy Warhol ognuno avrebbe avuto il suo quarto d'ora di popolarità. Avete trattato un tema molto scottante insomma che è quello della sanità in Italia come mai l'avete deciso di trattarlo in salsa agrodolce? Sì diciamo che è stato uno dei obiettivi primari quello appunto di trattare anche argomenti un attimino più seriosi però sempre con questa vena comica che da un certo punto di vista contraddistingue anche la tipica commedia all'italiana e secondo me in questo sta uno dei motivi del successo di Chiamami. Considerando il periodo che non è proprio dei migliori un po' per tutta la nazione per l'Europa non ci pareva proprio il massimo raccontare di eventi unicamente tristi e quindi abbiamo dovuto necessariamente condirli con accadimenti un attimino più comici e scansonati tipici un po' della commedia all'italiana ma tipici anche di un certo retaggio della commedia tipicamente pugliese un po' anche alla Lino Banfi eccetera di cui insomma non ci vantiamo di essere eredi però ecco di cui seguiamo le impronte. Dunque voi che già avete diciamo questo rapporto con internet molto particolare presumo che abbiate già una un'idea insomma del futuro del web voi puntate molto su diciamo su questo. Certo diciamo che l'idea anche che ci ha spinto a generare web fiction Chiamami è stato quello di di come le cose stessero cambiando a livello sociologico proprio cioè l'idea nasceva da alcuni studi che stavo facendo su come l'uso di internet stesse via via scavalcando l'uso o talvolta l'abuso che il pubblico soprattutto il pubblico minerile faceva della tv ovvero le ore che le persone passano davanti a internet adesso è di molto maggiore di quello che prima tutto il tempo che prima si passava davanti alla televisione. In virtù di questa cosa anche se adesso siamo un po' ancora agli inizi ma presto le modifiche si noteranno anche con il cambio generazionale degli utenti in virtù di questo anche dal punto di vista di quella che è la raccolta pubblicitaria le cose cambieranno cioè in realtà il vero futuro è proprio la web serie non solo appunto per quanto riguarda i risvolti economici ma anche per quanto riguarda proprio i metodi di produzione e anche la fruizione stessa perché molto spesso la fruizione di una web serie è usa e getta quasi molto veloce talvolta i canoni di fruizione su internet sono di massimo 9-10 minuti da questo punto di vista anche le web serie stanno dando forti lezioni al cinema anche per quello che riguarda il linguaggio e lo vediamo perché molto spesso il cinema italiano soprattutto si sta rivelando molto antiquato, molto statico, vecchio e dovrebbe un attimino rinnovarsi e in questo prendere spunto proprio da tutta la nuova generazione che arriva e che si sta sviluppando soprattutto tramite le web serie. Quindi rinnovarsi, ragazzi meno Facebook più chiamami a questo punto e ultimissima domanda che ovviamente pongo ad uno degli attori protagonisti Life, ovvero l'Ariano International Film Festival, lo vedete come un punto di arrivo o un punto di partenza? Per, non so, un futuro? Spero un punto di partenza comunque vorrei fare i complimenti a tutto lo staff perché è un meraviglioso posto è un'organizzazione meravigliosa grazie per averci ospitato grazie a voi per essere qui e per averci dedicato del tempo grazie